Dalle 17 al 31 luglio prossimi la Fiorentina tornerà in ritiro in Val di Fassa. La società gigliata ha infatti ufficializzato le date della preparazione estiva. Ad ospitare i Viola sarà per la nona volta il campo sportivo Cesare Benatti di Moena. Siamo molto felici di tornare in Val di Fassa. È un rapporto lunghissimo quello che lega la Fiorentina a Moena, ha commentato il direttore generale Viola, Gio Barone. Purtroppo ad oggi l'attuale emergenza sanitaria non ci consente di programmare gli eventi e le attività che vedono il coinvolgimento dei tifosi a seguito della squadra e che hanno sempre contraddistinto questi anni. In tal senso, ha aggiunto Barone, le decisioni saranno prese successivamente in base alle disposizioni delle istituzioni e delle autorità competenti in materia di contenimento dell'epidemia. Lo scorso anno fu proprio l'emergenza coronavirus a far saltare il consueto ritiro estivo alle pendici delle Dolomiti. Quest'estate però, finalmente, Moena tornerà ad abbracciare i colori Viola. La Fiorentina ha scelto ancora la Val di Fassa, ha affermato Maurizio Rossini, CEO di Trentino Marketing, a dimostrazione del rapporto davvero speciale che abbiamo costruito con Firenze. i tanti tifosi della squadra, ha concluso Rossini, torneranno a frequentare le nostre valli nella stagione estiva e sicuramente anche in quella invernale.